Dovevo tentare l'atterraggio in una radura, ma non c'era visibilità. Ad un tratto, un segnale. Quegli uomini mi stavano aiutando. Grazie a loro, ce l'avevo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Grazie, Idrish. Prego, fratello. Buonasera. Buonasera. Salve. Questa è la stampa di là. Buonasera. E lei? Dove va? Allo cittadino, sono venuto al forno qua. Ma ce l'hai il biglietto? Come il biglietto? C'è un biglietto da aereo. Sono venuto da Afrika andari ora, poi vado per tutto gioventus. Sono qua con Idrish. Sono fratello di Idrish. Fratello? Non ci credi? Sei scettico. Idrish! Ciao, fratello. Che ti avevo detto, bello? Ciao. Saluto Macalysh tu tanzi a tutti i tanzi. Ciao, fratello. Grazie a tutti